Oggi vediamo insieme alcune delle caratteristiche della Prima Guerra Mondiale, la Grande Guerra per quanto riguarda poi noi italiani, la storiografia italiana la più ribattizzata la Grande Guerra ed è la Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale è innanzitutto, punto primo, un evento periodizzante. Cosa vuol dire? Vuol dire che vi è un prima e un dopo la Prima Guerra Mondiale, questo di tutti gli avvenimenti, vi è un prima e un dopo, ma in questo caso vi è un prima e un dopo nel senso proprio di mutamento, di cambiamento radicale. Potremmo dire che la Prima Guerra Mondiale è l'evento che trascina via tutta una serie di speranze della Belle Epoque, che mette in luce tutte le contraddizioni della Belle Epoque e apre alla società di massa del Novecento. La società di massa è nata a fine Ottocento, ovviamente. La società di massa dei consumi, del tempo libero, dello sport, della fabbrica di massa, della città. Però quella società di massa che nasce a fine Ottocento ha una rappresentazione di massa mortale nella Prima Guerra Mondiale. È come dire che l'ascia di massa nascente si dà un appuntamento ai main trincea per dare vita al più grande e mortale spettacolo di massa che sia mai avvenuto nella storia. Ci sono decine di milioni di uomini in armi. Per quattro anni in Europa ci sono decine e decine di soldati, di maschi, dai 16 ai 50 anni, in armi, che si uccidono, che si fanno la guerra. E' chiaro? Dunque è un fenomeno, un avvenimento di massa che coinvolge tutta l'Europa. Tutta l'Europa. Coinvolge tutta l'Europa e poi si aprirà al mondo. Perché è una guerra, la Prima Guerra Mondiale, ancora profondamente europea, ma che si apre al mondo. Anche per questo è periodizzante. E' periodizzante perché mette in scena la globalità. La guerra nasce sui rancori, sulle accredini, sulle tensioni europee, tra francesi e tedeschi in primis. Nasce sui nazionalismi europei, tedesco, francese, slavo, italiano, russo, turco. Nasce in Europa, ma diventa mondiale. In modo particolare diventa mondiale perché c'è l'intervento decisivo, in gran parte risolutivo, degli Stati Uniti d'America nel 17. Dunque gli Stati Uniti d'America entreranno, la vecchia colonia diventata poco più di cent'anni prima, Stato, Repubblica, Democrazia, Indipendente, la vecchia colonia inglese diventa un grande Stato federale con una potenzialità bellica, economica di primo ordine e questa grandezza la metterà in mostra, questi muscoli li metterà in mostra nella Prima Guerra Mondiale. Allora è periodizzante perché per la prima volta gli Stati Uniti intervengono in una guerra europea e da dopo quella guerra saranno la prima potenza economica e bellica del mondo, dalla Prima Guerra Mondiale ad oggi. è il primato americano. La Prima Guerra Mondiale segna l'ingresso nella storia dalla porta principale degli Stati Uniti e gli Stati Uniti da questa porta di ingresso principale non sono mai usciti. Oggi hanno un'economia produttiva magari cinese, india, cinese soprattutto, che tallona di fatto gli americani ed è difficile stabilire in questo momento e sia la prima economia del mondo, se è quella cinese o quella americana, dipenderà dai parametri, è chiaro che si scelgono anche. Ok? Però la prima potenza economica, ancora sicuramente tecnologica, economica, complessiva, è quella americana, incalzata da quella cinese, la prima potenza ovviamente militare al mondo, ha per distacco e quella statunitense ancora oggi che è imbattibile, non c'è avversario sul pianeta Terra che militarmente potrebbe ad ora fronteggiare una guerra a darmi pari con una possibilità minima di vittoria contro gli Stati Uniti d'America. Prego. Ma secondo lei gli Stati Uniti sono entrati in guerra anche per questo motivo? Cioè per dimostrare di essere la prima? L'ingresso in guerra negli Stati Uniti ha sicuramente molte cause. Una causa è anche la partnership economica, culturale rispetto al mondo liberale, occidentale, democratico, cioè i francesi e gli inglesi. Preferiscono che vincono i francesi e gli inglesi per poter anche continuare i traffici commerciali nell'Atlantico, è chiaro, e hanno una visione di mondo più simile a quella degli inglesi e dei francesi. E poi anche perché i tedeschi hanno comunque portato la guerra nell'Atlantico con i, vediamo il secondo punto, guerra moderna e tecnologica con i sottomarini. Gli americani subiscono anche delle perdite, degli affondamenti di navi a causa dell'aggressività bellica dell'impero guglielmino, dei tedeschi. E dunque di fronte anche alla minaccia, all'espansione dell'espansismo tedesco, di fronte a questa muscolatura tedesca, preferiscono far vincere i francesi e gli inglesi, ma al contempo intervenire e dare vita a un'economia mondo con il primato americano. Allora questo Enrico sì, sicuramente dopo quella guerra è il dollaro, la moneta portante, non è più la sterlina, dopo quella guerra tutti hanno ben presente che c'è una nuova potenza mondiale, c'è una nuova potenza militare, sono appunto gli Stati Uniti d'America, ed è gli Stati Uniti d'America. Ok? Dunque, periodizzante per tanti motivi, prima di tutto perché stabilisce proprio il passaggio alla società di massa, la società di massa mette in scena una guerra di massa con milioni, milioni, milioni di uomini. Periodizzante perché è la prima guerra che si fa mondiale, gli Stati Uniti e poi l'Australia, poi il protagonista del Giappone, la Cina, il Brasile, va bene? e manderà dei soldati all'interno dell'alleanza dell'intesa. Dunque si fa globale, mondiale, anche se è combattuta in Europa, nel nord Europa, nel centro Europa, nel fronte occidentale, nel fronte orientale, nelle Alpi italiane e nel Mediterraneo in modo particolare nella Grecia, nell'isola dell'arcipelago greco, nel mondo turco, nel mondo del Medio Oriente perché c'è l'impero ottomano, è chiaro? Dunque periodizzante, proprio perché si fa globale anche se è combattuto il territorio europeo, periodizzante perché si porta via degli imperi secolari. Ragazzi, quando voi dovete pensarmi alla Prima Guerra Mondiale, quando voi vi relazionate alla Prima Guerra Mondiale, pensate a questa cosa. Prima della Prima Guerra Mondiale vi è l'impero russo, lo zarismo, impero secolare, la Russia degli zar, la Russia dei Romanov, verrà travolta dalla Prima Guerra Mondiale. Perché la Prima Guerra Mondiale è il fattore scatto della Revoluzione russa, molti degli analisti politici in questi giorni parlano della Revoluzione russa, dimenticano di evidenziare che la Revoluzione russa scoppi in un breviere contesto che si chiama Guerra Mondiale, in cui le cancellerie europee hanno fatto precipitare milioni di uomini. allora a questi giorni in cui si parla anche dei morti della Revoluzione russa, che in realtà pochissimi morti nell'ottobre, ma i morti sono poi attribuibili allo stalinismo, beh, gli analisti che parlano della Revoluzione russa e dei morti che ha causato decenni dopo con lo stalinismo non fanno un accenno alle decine di milioni di morti cosa della prima guerra mondiale voluta dalla classe dirigente liberale, democratica o autocrate dell'Europa solo per capire che la storia non è se faccio il tipo per l'Inter o faccio il tipo per il Milan non è un derby calcistico. C'è l'impero zarista, c'è l'impero guglielmino e quello tedesco, il vecchio impero tedesco, quello che da prussiano con gli Holzollern e attraverso i problemi di Bismarck e di Guglielmo II è diventato la grande Germania potenza dell'acciaio delle armi dell'involuzione industriale seconda inarrestabile e c'è l'impero ottomano questi tre imperi che sono plurisecolari russo tedesco e ottomano dopo la prima guerra mondiale non ci sono più tra i cadaveri della prima guerra mondiale vi sono gli imperi l'impero turco l'impero russo e l'impero ottomano e tedesco dall'impero tedesco nascerà la repubblica di Weimar dall'impero russo nascerà con la rivoluzione d'ottobre poi l'unione sovietica e dall'impero ottomano nascerà la Turchia di Kemalata Turk ok ma nascono tre repubbliche una socialista federata una federale democratica quella di Weimar tedesca e una laica militarista quella di nazionalista di Kemalata Turk tre repubbliche al posto di tre imperi ditemi quale avvenimento della storia ha prodotto un cambiamento un mutamento così grande ecco perché periodizzante nasce la repubblica di Weimar nasce la Germania ok ma c'è un quarto impero quarto impero che crolla che è un impero che è sorto nel del duecento comincia a nascere nel mio duecento ma nei suoi primi passi che è l'impero asburgico l'impero asburgico il quarto impero che viene travolto il più longevo il più lungo quello che vede Francesco Giuseppe a titolo di imperatore governare appunto l'Austria l'Ungheria e i Balcani ok da decenni l'impero austro-ungarico l'impero asburgico viene appunto cancellato implode nascerà la Repubblica Austriaca l'Austria come Repubblica nascerà la Jugoslavia nascerà la monarchia Jugoslavia ma anche la monarchia della Cecoslovacchia nascono stati che non c'erano nasce l'Ungheria l'Austria la Cecoslovacchia e la Jugoslavia nasce una Repubblica quella austriaca nasce una Repubblica quella magiara-ungherese e nascono due monarchie quella della Cecoslovacchia e quella della Jugoslavia decisiva poi per capire che qua poi l'avvento ok poi del fascismo e del nazismo capire anche questa questa frammentazione dell'Europa è nascita di nuove di nuovi stati in cui anche i movimenti fascisti e nazionalisti metteranno ulteriori radici quattro imperi quale guerra vi porta via quattro imperi quale guerra quale avvenimento ha fatto sparire quattro imperi plurisecolari nessuno la prima guerra mondiale è il più grande avvenimento sicuramente del novecento come impatto ma come ma nazismo eh no ma la seconda guerra mondiale che ha più morti che ha più drammaticità non è una guerra che arriva così inaspettata e devastante come la prima guerra mondiale quando scoppia la seconda guerra mondiale e tutti sanno che deve scoppiare da anni tutti sanno che sarebbe una guerra devastante lunghissima la cui portata avrebbe cambiato il corso ulteriormente del novecento ma è molto semplice perché la prima guerra è più importante uno perché l'impatto è più devastante perché nessuno si aspetta tutti i suoi comiti di vincerla due perché porta via gli equilibri europei anche qua plurisecolari tre perché gli avvenimenti che innesca la prima guerra mondiale tra cui la sconfitta e l'umiliazione della Germania e lo scoppio della revoluzione russa causano la seconda andiamo ad Aristotele le cause primarie sono superiori alle cause secondarie è chiaro dunque è ovvio che la seconda guerra mondiale causa molte cose ma la seconda guerra mondiale sta causata dalla prima guerra mondiale da tutte le contraddizioni che essa sviluppa da tutte le contraddizioni che essa sviluppa profondamente dunque periodizzante il novecento il secolo breve di Oshbaum infatti uno dei più grandi storici appunto inglesi di Stapo Marxiano del novecento ci dice il secolo novecento è breve perché il vero inizio non è nel millenovecento dato importante perché esce la psicanale l'interpretazione dei sogni di Freud e perché muore Nice ma nel novecento con questa botte per dirvi che non accade nulla di così significativo come guerre e rivoluzioni di ogni tipo il novecento un anno come tanti altri dentro la bella epoca il 1914 il colpo di pistola di Gavilo Principe danno vita invece un avvenimento che cambia per sempre il corso della storia dell'umanità dell'Europa proprio perché non ci sarebbe stata la Russia non ci sarebbe stato dunque il fascismo il nazismo dunque la responsabilità anche dei gruppi dirigenti liberali o nazionalisti è molto grave nell'aver fatto scoppiare la prima guerra mondiale dunque periodizzante il novecento con tutte le sue contraddizioni inizia con un avvenimento di massa dentro sia di massa ma che un evento di guerra di massa di morte di massa di immobilizzazione di massa è chiaro? prima guerra mondiale come elemento periodizzante l'ottocento non si è chiuso nel 1899 il 31 dicembre ma l'ottocento è finito nelle trincee l'ottocento è finito nei gas l'ottocento è finito nei trattati di Versailles di Paris di Saint Germain negli anni successivi nel 1919 è chiaro? secondo non riesco a vedere magari tra le caratteristiche oggi è una guerra moderna cosa vuol dire che è una guerra moderna e il film che dovete vedere in Orizzonti di Gloria o dentro il fronte occidentale oppure la grande guerra ve lo mostrano perché è una guerra moderna? perché viene combattuta con armi moderne e su tutte io ne ricorderai due sono tante le armi moderne ma la mitragliatrice è quella mitragliatrice che i futuristi esaltano soprattutto quel Marinetti che dice è quasi come una musica soave ma Marinetti è in questo è abbastanza poco attendibile personalmente un po' un cialtrone questa è la mia opinione perché definire la mitragliatrice un suono soave perché non stai morendo al fronte ovviamente ma la stai astraendo come emblema della modernità però la mitragliatrice è moderna perché? perché sono tantissimi colpi al minuto non è più un tamburo da caricare con sei colpi un fucile con otto colpi va bene? hai già delle armi automatiche che sparano ma che in questo caso possono sparare a ripetizione cento colpi centocinquanta colpi allora c'era cosa c'era? della modernità che è di morte soldato tu che spara ok? poi a fianco chi avete avete un altro soldato che regge che regge ovviamente le praiette i grandi cinturoni di 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 ce n'erano anche qua di meno ma appaiono e soprattutto c'era l'obbligo poi di continuare moriva quello che sparava con la mitragliatrice l'altro doveva continuare la modernità e l'organizzazione poi ricordatevi la mitragliatrice che è portatrice di morte a ripetizione quando eri sotto il fuoco di un mitragliatore dentro la trincea o nel no man's land tra le due trincee era finita noi bisognava cercare di sparare a quelli che usavano il mitragliatore andare all'assalto dell'altra trincea e focalizzare soprattutto nel punto in cui c'era il mitragliatore che modernità è la modernità la tecnologia ma la modernità in questa cosa di morte poi a Ypres da cui Iprite viene sperimentata per la prima volta un'arma chimica contro degli uomini a Ypres che è tra il Belgio e la Francia in Belgio nel fronte occidentale dunque i tedeschi scaricano barili di questo agente chimico che si chiamerà Iprite dentro le trincee dei francesi e l'altra arma che è emblema di modernità la chimica la chimica esaltata diventa la chimica di morte e la chimica dei medicinali e la chimica che ha permesso di curare delle malattie ok è un gas è chiaro è un gas ma qui abbiamo lui che è un po' esperto di armi non vorrei che nel suo stanzetto a casa sua è scassinatore non vorrei che questa vita non diciamo il nome di chi sei ok allora è chiaro che dov'è la modernità è che la chimica che vi ripeto permette di guarire da malattie e la chimica che permette di progressi anche l'industria alimentare è la chimica che diventa strumento di morte il problema delle armi chimiche adesso a cui magari pensate a quelle americane a quelle cinesi a quelle in mano all'ISIS a quelle in mano all'Iran a quella del nord alla Russia è un problema che è nato con la prima guerra mondiale perché la prima guerra mondiale è entrata in scena delle prime armi chimiche e negli anni dopo ad esempio a Ginevra con una convenzione che la società delle nazioni cercherà di emanare nel 24 si cerca di dare delle regole all'uso di armi chimiche perché non è un'arma come le altre infatti i tedeschi arrivano hanno delle maschere antigas avvelenano gli altri grandi mal di pancia chiaramente svenimenti sordimento e spesso anch'essi non hanno delle maschere antigas così adeguate moderna perché le armi sono moderne perché la tecnologia è moderna è moderna nel modo di essere combattuta ma poi il risultato è la morte dunque un altro aspetto è questo della prima guerra mondiale è moderna ma la modernità questa cosa la cui tengo di più di questa lezione non è sempre positiva la modernità porta con sé aspetti positivi aspetti negativi perché dipende da come la si usa la modernità lo smartphone dipende che ne usano e fai non è che di per sé lo smartphone è una modernità positiva è una modernità a cosa lo usiamo a fare l'automobile il treno l'energia nucleare è modernità a cosa lo usi a fare a sganciare delle bombe su Nagasaki o Rishima o a produrre dell'energia detto che anche questa fonte di energia a volte è problematica perché basta un incidente una centrale nucleare e muoiono ok decine di migliaia di persone dunque tutti quelli che vi dicono è moderno nel momento in cui dici è moderno tu quello che non lo è vecchio ma non è detto che il moderno porti con sé solo positività la modernità della prima guerra mondiale ha messo in luce il lato B della modernità stessa perché la medicina può essere fatta a fin di bene o a fin di male la chimica a fin di bene a fin di male posso arrivare un domani a Mengele e a vedere gli sperimenti del dottor Morte nelle baracche dei campi di sterminio quella medicina lì quella su cavi umane zingare omosessuali ed ebrei e la medicina moderna a fin di bene ma perché poi ci sono quelli che oggi non studenti grazie alla medicina nazista si sono fatte dei progresso certamente c'erano degli uomini che avevano sul loro corpo le sperimentazioni dirette di questi agenti chimici li prendevi li buttavi via e la modernità quella è moderna nel senso che la tecnologia è moderna c'è razionalità in questa guerra nella organizzazione della guerra ma è una razionalità una modernità che contengono dentro di sé il problema della vita umana o della natura considerati come mezzi questa è una modernità non moderna se tendiamo per modernità giustizia libertà uguaglianza fratellanza come i temi della modernità della luce francese allora è modernità tecnologica è modernità razionale ma non è modernità della vita umana dei diritti non è facilissimo facendo poi con voi un po' di filosofia del novecento su questo tema ci torno facendo la scuola di Francoforte eticamente bravo non c'è una razionalità etica morale valoriale c'è una razionalità tecnica strumentale e le razionalità tecniche strumentali potrebbero anche essere di questo tipo ma guarda se per far funzionare meglio il Giordano Bruno servirebbero cento studenti in meno va bene facciamo così che cento studenti non si iscrivano più in che modo bocciandoli ok potrebbe essere una razionalizzazione perché io decido di far funzionare meglio perché c'è cento posti in meno ok la mia fabbrica funziona meglio se ci sono trenta dipendenti in meno li licenzio è una spazio razionale poi c'è la vita dell'altra persona è chiaro cosa vuol dire è razionale costruire qua una diga e i villaggi che abitano qua li portiamo via li mandiamo tutti questi abitanti a vivere in città ma io vivrei qua in natura qua facciamo una diga mi spiace per te sei contro modernità è problematica almeno la modernità prendetela come problematica quanti minuti ho? 5 allora ci sta solo più l'ultimo punto che il terzo è una guerra ideologica anche su questo punto ci tengo molto perché a questo punto tengo molto perché la prima guerra mondiale è una guerra che spesso viene derubricata come non ideologica perché è paragonata e confrontata alle guerre più ideologiche quali la guerra civile spagnola tra repubblicani comunisti socialisti anarchici contro fascisti nazisti o i franchisti o la seconda guerra mondiale comunisti socialisti da un lato poi i socialisti comunisti liberali democrazie nazisti fascisti cioè prendiamo le ideologie socialismo comunismo liberalismo democrazia nazismo e fascismo è la guerra delle ideologie qual è la seconda guerra mondiale attenzione e qua dovresti già saperlo la prima guerra mondiale è ideologica perché vede contrapposto a due idee anche di civiltà la cultura tedesca la cultura degli imperi centrali la culture il popolo la terra il sangue le tradizioni uno stato e proiezione di un popolo che ha una cultura delle radici la cultura tedesca contro gli ideali liberali la civilizzazione come ho detto laica francese inglese illuminista liberale democratica da un lato l'Europa degli imperi la tradizione la forza la lingua la terra dall'altra l'Europa dei lumi del commercio del liberalismo della laicità l'Europa che ha due idee di modernità diversa la modernità della comunità tradizionale valoriale la comunità invece più liberale individuale economica o così viene presentata dai tedeschi e così viene presentata dai francesi cioè le due comunità si auto anche rappresentano diverse e celebrano criticano rappresentano l'altro come diverso è la guerra dell'Europa centrale contro le potenze del vecchio colonialismo e l'Europa delle nuove potenze Austria Germania contro ok che vogliono nascere contro le vecchie potenze che hanno per secoli dominato l'Europa e il mondo l'Inghilterra e la Francia dunque c'è l'ideologia di mezzo noi siamo francesi francesi portava con sé tutta una serie di valori noi siamo tedeschi e dire questo portava con sé tutta una serie di valori è chiaro? dunque i primi tre punti le prime tre caratteristiche della prima guerra mondiale sono i seguenti periodizzante cioè chiude l'ottocento come lungo secolo e apre il novecento come secolo diciamo più breve ok che va dalla prima guerra mondiale al crollo del muro di Berlino e l'imposizione dell'Unione Sovietica e una guerra moderna perché c'è la razionalità la modernità della tecnologia delle armi ah dimenticavo i treni la modernità dei treni portare al fronte soldati portare al fronte armi vengono costruite linee ferroviarie apposta per raggiungere le zone di guerra la modernità il treno corre sulla modernità la modernità corre sui binari della ferrovia quale mezzo ha avuto un impatto ideologico nell'immaginico come il treno il treno che collegava nell'ottocento Parigi e Istanbul l'Oriente Express la Transiberiana tutti i grandi treni che percorrevano migliaia di chilometri era la modernità io borghese di Parigi per affari o per turismo vado a vedermi Istanbul partivi da Parigi ok diritto sull'Oriente Express di Agatha Christie ci ambienta anche un romanzo giallo parto da Parigi e dopo qualche giorno mi risveglierò a Istanbul che è l'Oriente è chiaro cosa vuol dire questa è la modernità ma quella modernità diventa non ti porto caro borghese a Istanbul ma ti porto caro borghese ufficiale ok a Verdun ti porto in guerra e tu proletario e contadino che il treno non l'ha mai preso adesso lo prendi e il treno ti porta a morire